Quella dell'omicidio-suicidio è la pista più battuta dagli investigatori. Emergono nuovi atroci dettagli riguardo il delitto che ieri mattina, intorno alle 8 e 45, si è consumato in via a tagliamento a Montesilvano. I corpi di due persone, marito e moglie, rinvenuti in casa in una pozza di sangue, avevano accanto due coltelli di diverse misure, probabilmente utilizzati in due momenti diversi. La donna, una 41enne addetta alle pulizie, aveva diverse ferite da taglio sulla parte alta del corpo, anche sulle mani, conseguenza forse di un tentativo di difesa. Su di lei anche segni di strangolamento, le sue urla disperate erano state udite dai vicini di casa che per primi hanno lanciato l'allarme. Sembra quindi un caso di femminicidio. L'uomo, un muratore cinquantenne in cassa integrazione, aveva una ferita all'altezza del petto, forse ha prima ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Il tutto è accaduto in una decina di minuti, dopo che uno dei due aveva appena accompagnato il figlio di 10 anni a scuola. Il bambino era affidato ai servizi sociali, in attesa che arrivino i parenti dalla Romania, saranno loro, insieme a uno psicologo, a dovergli spiegare cosa è accaduto. I genitori erano arrivati in Italia a circa 15 anni or sono e dopo tanto lavoro, qualche anno fa, erano riusciti ad acquistare quella casa in via Tagliamento, una stradina dove tutti si conoscono. Per i vicini ieri è stato un fulmine a ciel sereno, erano brave persone, perfettamente integrate, dice chi li conosceva. Oggi l'autopsia è seguita dal medico legale e il dopo l'idoro è disposta dall'APM Fabiana Rapino. Gli investigatori ora si chiedono il perché di una tale furia, se un perché può esserci. Nell'ultimo periodo il marito era cambiato, forse un po' depresso, raccontano i vicini di casa, magari per le difficoltà economiche, seppure non erano insormontabili oppure per motivi di gelosia. Non avrei mai voluto apprendere un fatto del genere, ha detto il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, una terribile vicenda di sangue che ha sconvolto l'intera comunità. Un dramma, conclude il primo cittadino, che ha spezzato una famiglia, segnando inevitabilmente la vita del figlio della coppia. Se le dinamiche di quanto accaduto dovessero essere confermate, questo sarebbe l'ennesimo femminicidio, il 53esimo in Italia dall'inizio del 2021.